3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazzi ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video molto bello, un video recensione della Kawaii Box Ma non è che è solo nostra, questa arriverà anche a uno di voi! Magichini o magichini E tutte le informazioni appunto per avere questa favolosissima E ci siamo riusciti prima di Natale di fare un bellissimo regalo a tutti per voi Tutto per voi! Allora questa è la Kawaii Box bellissima con Kawaii Box scritto così E così ve la manderò a Kawaii Box proprio dal Giappone appunto Ve la manderò a direttomonto così, guardate allora Sta scritto qua, poi sta scritto qua, sta scritto qua Ecco questo è il sito Ecco qua Questo è il sito per andare a... Tutto vi lascio giù in descrizione Ragazzi allora quindi il link per rispondere a tutte le domande e appunto vincere questo giveaway perché è bellissimo Dovete semplicemente cliccare sul link e rispondere alle domande e basta andare nell'info box e rispondere alle domande Prima del video Sam mi ha dato una scatola qua Non l'ho fatto bosta Allora, beh ragazzi comunque vi deve arrivare a voi ma anche a me è arrivata quindi la voglio aprire ora Dai apriamola basta fare sbanzoria Muoviti e apri Direttamente dal Giappone la Kawaii Box Ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto Ho vinto, ho vinto Ma sei impazzita Guardate il lavoro Inbrogliona Dai Dai facciamo un barabacicicocco per farlo Ambarabacicicoccole No bella, no facciamo salsocartapo Ah salsocartapo G Salsocartapo Ho vinto, ho vinto, ho vinto Allora, io ho vinto Nooo Ti ho vinto, ho vinto, ho vinto E' davvero, io voglio aprire Ma con me io ho vinto Ma con me io sono piccola Sono minorelle Questa è la piccola balenotta E' apriamola Vorrei sapere cosa stai pensando Ora è che gli occhi che vi ho visto Che carino Adoro, hashtag adoro Commentate Hashtag adoro Ecco qui, questa o si aggiunge Alla nostra collezione Allora Ragazzi Allora, è troppo bella rosa rosa Questa o si aggiunge alla collezione della mensola O si aggiunge proprio qui Vedete Noi abbiamo una collezione intera Che ci davano in gomma Doi, vediamo Giulia Scegli qualche parte Oh, che bella La pacchetta E' rosa Questa kawai box E' tutta rosa Almeno E' prima di cosa l'abbiamo detto Vorrei sapere Come stanno Oh no Ti chiudo gli occhi Fa tu che bello Allora Questa si può capire La manca Vedete Aspettate Allora la scocchiamo E' fan a ruovo Una cosa leggenda Comunque più bella Sì E' per carla E' per carla Aspetta, aspetta Voglio solo farete Guardate Si può accostarsi Per portare roba da mangiare E' roba qui Ognuno avrà un colpo No, è ora Ognuno di oggi Suo Ehi, anche lui Prendi Ma che freddo bucciuto Con Mario Però una bambina Ma che Mario Ah, Mario ha bambina Ah, Mario Che carino Bellissimo E' Enrique Bellissimo Che sono più forte Adesso Desce anche la copertina Che è come lì Cioè, bellissimo Allora Io vedo, vedo, vedo Tanti glitter E sticker Allora Che belli Oddio Questi sono troppo belli Aspettate Ora vi faccio vedere Allora Questi sono Gli adesivi Con i brillantini Che sono troppo belli E si possono attaccare Dove volete Sono troppo belli i colori Wow E poi E poi Anche questo Che sono Gli adesivi Di Aspetta Come si chiama Questo Allora Questo me lo ricordo Come si chiama Però Gudetama Bravo Brava Margherita Brava Sono brava Allora Gli adesivi Di Gudetama Che sta al parco giochi Quindi fighissimo Wow Bellissimo Allora 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 Come Bellissimo Ah Quante carine Quante carine Una penna Una penina Che no Perché metti la penna Comunque Una penna Che ha la scarpina Per il tappo Non l'abbiamo vista Troppo carino Carino E poi Scriviamo Oggi sono andata bene A scuola Vabbè Non una cosa lunga Vabbè Dai Passiamo avanti Allora Ci sono le ultime due cose Che sono piccoline Quindi le prendo tutte e due Allora Qua prima di tutto Escono tutti i foglietti E qua c'è la kawaii box Dove sta scritto appunto tutto Quello che usciva Dopo lo leggiamo Allora Lei è Ogni volta che usciamo Quando apriamo una kawaii box Trova delle caramelle E delle mollette Vabbè No Le mollette no No Bellissime Quasi sono Non merito Sì Guardate Guardate come sono carine Le ho riaprinte No Le ho riaprinte Apriamo Allora io apro le caramelle Eh no Perché ho riaprinte Io Ho detto No Pena E' di blippo Proprio La loro Marta Quanto? Carina Zitta Giulie me ne dai una 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 Allora c'è Il toast La bottiglia E la maese Arachidi Dammi il succo a limone Ah Asciutata Non riesco a prendere la manetta Io vi ho l'arachidi E sta con Vorrei sapere A cosa stai pensando Ma ci piace Si vede No Non ci vede Per niente Ascettate Vabbè Comunque Va benissimo E' fighissima E tutta la resta presto Oh che carina Vabbè io apro Ma se io fa una coca Voi dovete sapere Che io Ho una passione Per queste caramelle Non so Escono in tutte Le Kawaii box Tutte le cose Da mangiare Tutto E' E' Come 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 Questa Forse Sono a fragola Bianca Di più Colori Allora Prima Le signore Prima Le bambine Piccole Guardate Sono Semplici Caramelline Però Sono Buonissime Uno Dieci Dieci Buonissime Un'altra Anche voi Le volete Partecipate Al giveaway O andatela Ad acquistare Ragazzi Basta iscrivervi Al nostro Canale E Rispondere A tutte Le domande Bellissimo E lasciare Like Ovviamente Cos'è Buonissima Quella Bianca Wow Un amore Non Tavo più Me stesso Ragazzi Allora Questa era La kawaii box Scusate Ma Tengo ancora Una caramella In bocca Di quelle Lì Che sono Squisite Allora Prima di tutto Vi dico Che Non sarà Questa La kawaii box Ma Ne sarà Un'altra Del mese Successivo Quindi Ancora Più Bella Perché Ovviamente Più si va Avanti Più le cose Diventano Belle E Queste Caramelline Di solito A me Mi sono Sempre Uscire Quindi Credo Che Vi Escano Anche Nella Prossima Se Poi Vi Piacciono Proprio Le Kawaii box Oppure Volete Proprio Questa Qui Andate Sul Sì Sul Sì E Andate Andate Alla Prossima E Quindi Molto Figata Bello 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 Quindi Per Partecipare A questo Live We Vi Basta Lasciare Like Iscrivetevi Condividete Il video E Giù Nell'info Box Trovate Il link Per Rispondere Alle Domande Ragazzi Per Questo Natale Vi Facciamo Noi Un Regalo La Kawaii box Voi Non Ci Dovete Mettere Niente Perché E Un Regalo Nostro Da Parte Nostro Per Voi Come Gli Squish E Come Tante Altre Cose Quindi Ragazzi Non Vi Preoccupate Partecipate Al Give A Che Uno Di Voi Vincerà La Kawaii Box E Un Regalo Natalizio Da Parte Nostra Però Comunque Quindi Ragazzi Questo È Il Video Spero Ci Piaci Tantissimo Iscrivetevi A Instagram Marghe Giulia Kawaii Trattino Basso Officiale Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real Sul Secondo Canale Maggi Ti Vi 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 Grazie